Mandzukic ha segnato la Juventus Anche loro in contropiede hanno cercato Attenzione a Mandzukic col pallone che rimane lì Mario Mandzukic La Juventus è in vantaggio Esattamente al secondo minuto Nel corso del primo tempo cambia già il parziale allo stadio Tardini C'è stato un errore se non andiamo errati di Gagliolo Che ha lasciato praticamente il pallone lì per il giocatore croato Che dopo il rimpallo si è visto praticamente veder cadere il pallone sul destro A pochissimi metri dalla porta E difesa da sé per nessun problema Appoggiare per lui con l'interno del piede nell'angolino più lontano E di andare a sveltire le operazioni di riscaldamento Mentre attacca la sinistra la Juventus con Alessandro In buca in mezzo Mandzukic colpo di tacco Ancora Dugascolta Sinistra rete Ha segnato la Juventus Ha segnato Matuidi Col pallone sotto la traversa Dopo una triangolazione strettissima Il colpo di tacco di Mario Manzo Che c'è per Matuidi Che è la posizione a sede filata E riuscita a colpire il pallone dall'alto verso il basso E a perforare la porta della Parma E a perforare Sepp E quindi cambia nuovamente il parziale Al tredicesimo minuto nel corso della ripresa Qui allo stadio Tardini di Parma Ha segnato la Juventus Ha segnato Matuidi Ha perso il tempo quadrato Che ora va al traversore in mezzo a cercare Manzokic di testa Manzokic La Juventus è il vantaggio Al secondo minuto Mario Manzokic Parma zero Juventus uno Sottomisura Mario Manzokic Dopo neanche due giri d'orologio Cambia già il parziale Qui al Tardini Con il secondo gol consecutivo Il campionato di Mario Manzokic Che si era sbloccato sabato scorso Contro la Lazio Alexandro vuole il cross La sterzata dentro il pallone Per Manzokic E di tacco Attenzione Douglas Costa Matuidi Matuidi 2 a 1 per la Juventus Blaise Matuidi Il vantaggio della Juventus Al Tardini di Parma Tredicesimo minuto Blaise Matuidi Il primo gol In questo campionato Il sesto Con la maglia della Juventus Per Blaise Matuidi 2 a 1 per la Juve Tocco verticale A cercare Manzokic Pallone che arrivare lì E c'è l'1-0 Juve Ci pensa subito lui Mario Manzokic Il senso del gol Di super Mario Manzokic 1 minuto e 57 secondi Contro il Milan Valla San Siro contro l'Inter Trazione dei momenti importanti L'ascosta che stanno sempre Occhio a Matuidi Matuidi Sfonda la porta L'assessi di Manzokic Matuidi 2 a 1 Juve Bella, 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 bella L'assessi di Manzokic